Piatto povero ma gustoso Invece il suo è piatto ricco però non ha sostanze, solo per farlo, piccifico, piatto ricco Sto riprendendo, sto riprendendo Ma non esce niente Guarda bene Ah è vero Sì sì Sto riprendendo il mondo Eeeh 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 La pizza la faccio io con queste mani, il dolce ci pensa il mio collega, ci hanno pagato stasera, porta un'altra pizza questi qua hanno vinto premio simpatia. Non lo riprende, dai così stai riprendendo, non lo riprendi, davanti, dietro, non lo riprendi, ma quante volte lo ripregaste? Guarda non l'ho mai contato perché la mia testa non è capace di arrivare troppo il 100, sì però almeno un po' di cotone metti perché è vero. Elisa deve mettere un po' di cotone, dove? Dove deve mettere il cotone Elisa? Qua la nebbia si sta scaldando eh. No, vai che non è, no, vai che non è, no, vai che negli occhi che ho visto né, no? Le Il prossimo piano? 張 io Fori come succede Non noi Ha pulito! Questa cassetta diventerà famosa. Andremo tutti su internet. Ingegneria globale tecnologica. Andremo anche su Mediasetta e con Maurizio Costanzo Show. Tu che mi ascolti, ricordati che devi morire. Ecco, conci fisso. Scopriamo un arcano segreto da millenni, millenni e millenni. No, no! Che giocci insuano! No! Le mani in testa! Questa discussione andrà in forma limitata per venire incontro alle sue capacità mentali. Ed ecco Zazeruk è sinistica in una frase di cui non conoscerà mai il significato. Aspetta, metto in modalità campinatore. Aspetta, metto in modalità campinatore. Il rato deve saprire. Ma ti piace? Vedo che lei capisce tutto quello che dice. Ti piace? Non riesca tutto, 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 tutto. Guarda la faccina! Che piacanice! Che faccina! Che faccina! Guarda che tu lo vedi rosso, lo stai registrando. Stai registrando, sta registrando. Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo, guardalo! un uomo... Un uomo, un voto. Un uomo, un volto! Un uomo, un volto. Senti? Eccolo qua! Senti? 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 Senti ma, che c'è? Senti? Senti? Me la cassa scoledica? Senti? 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 All in it is love All in it is love Love is all in it All in it is love All in it is love What are you doing? What are you doing? La 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 Vedi questa? Io non ci si metto a Chiara Ad Abbronzati Ti Ti amo tu lo sai Ma che stessa questa? Si vado a comprare delle mentine. Si vado a comprare delle mentine. Si vado a comprare delle mentine. Stefania! Stefania! Vuole sparecchiare? Ci provo? Come le ragazze russe. Fai la mano, la mano più giù! E' l'amore! E' l'amore! E' l'amore! E' l'amore! E' l'amore! E' l'amore!